Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, tu prepari una menza sotto gli occhi dei miei nemici, un cidiole il mio capo e il mio calice trabocca. Quindi qua però c'è un passaggio, il pastore delle pecore, ma quel pastore che a un certo punto sarà messo a morte, tu prepari una menza sotto gli occhi dei miei nemici, quando la prima messa, l'ultima notte, là c'era presente un nemico, le bras stava lì, Giuda, te, in mezzo a voi, uno di voi mi trattirà, sono forse io maestro, ho detto pure questo uomo che chiesto, poi dopo Giuda prende e se ne va, però ci ha fatto questa domanda, se avete dentro il certo Giuda che è da farla prima, stiamo nel capito, non fa mosso, a te, non devi dire. E quella notte c'era un nemico davanti a lui e sull'altare della croce c'erano i nemici suoi, il crocifiggilo, l'avecista miezzo e non rimmi più, è chiaro? E perché è stato ucciso? Perché lui ha rispettato il padre suo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Davanti a me preparo una menza, poi sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora nella casa del Signore, i giorni, quindi bontà e fedeltà, quest'amore verso il prossimo, il pastore non è quello che comanda, ma quello che ama le sue pecorelle, il guai a chi c'è il tocco, è chiaro? Anche se smarrisce, lui non pensa, dove sta l'amore dei grandi verso i piccoli? Dove sta l'amore dei capi verso i sudditi? C'è il dominio, c'è lo sfruttamento o c'è quest'amore? E allora se noi ci mettiamo in uno specchio, forse chissà che mia colpa dovremmo fare, dieci anni, vint'anni, trent'anni, quarant'anni di una missione, vado in pensione, ho finito, ma che hai lasciato? Ma che hai fatto fino a me? Questo greggio come l'hai guidato? Hai fatto lo sfascio totale? O veramente hai saputo riunire le tue mani? C'è l'ora che hai bisogno del tuo aiuto, del tuo coraggio, della tua fede, dei tuoi sentimenti, della tua fedeltà, della tua giustizia, della tua onestà soprattutto, che hai fatto? E a termini di 40 anni ti prenderai pure una bella pensione e quando andrai davanti a Dio avrai una brutta sentenza con quale coscienza ti presenterai. Allora adesso vediamo la seconda lettura che tratta dalla prima lettera, versetti 20, 26, 28. Cristo è risorto dai morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. In Adamo tutti muoiono, così tutti riceveranno la vita. Ognuno però ha il suo posto, prima Cristo che è la primizia, poi ha la sua venuta a quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dovrà aver ridotto a nulla, per ogni principale potestà di forza. Necessario infatti che egli regni, che non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. Adesso annientato sarà la morte e quando tutti gli saranno sottomessi, anche egli, il figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. E' che innanzitutto dice ora che sono morti e risorto, perché da Lui tutti quanti noi potremo poi ricevere la risurrezione finale. Tutti risorgeremo. Quindi questa risurrezione è un concetto licesimo. Cioè tutti quelli che nel corso dei tempi, partendo da Cristo, hanno ricordato quello che Gli ha detto. Come Lui è risorto, risorgeremo anche Lui. E poi, perché se per mezzo di un uomo viene la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Cioè mentre Adamo, peccando, ha provocato questo senso di distruzione e di morte, per mezzo di Gesù invece noi avremo la risurrezione per una vita avasce, all'inferno. Poi dice, poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dove è ridotto a nulla ogni principato, potenza e forza. Perciò, cari amici, non pensate che siamo potenza, siamo la forza, siamo questo e che l'altro. Perché, vedete, anche noi abbiamo avuto un grande pugile nella storia americana. Cassius Clay, o Ray, o gli amavano, o Ray, eccetera, eccetera. Sembrava imbattibile, però ci fu una notte memorabile in cui Frazier, a tappeto, il titolo e tutto il resto, poi dopo l'hanno riconquistato. Con la prima grande sconfitta di questo campione che sembrava imbattibile, è chiaro che aveva la potenza, aveva la forza, aveva l'astuzia, eppure scampato da terra. E allora, vedete, quando sarà la fine, la potenza, quello che sia, tutti i potenti, tutti quelli che hanno avuto un titolo, compariranno davanti a Dio. E compariranno per fare che? Perché l'hanno riuscita, la sala l'ossa, tutti quanti. La responsabilità, la nostra popolazione, ognuno nel suo raggio e quindi ognuno deve rendere conto a Dio di quello che ha fatto. Poi queste persone, tutti quanti, queste anime, tutti quanti compariremo davanti al Signore. Poi dice l'ultimo nemico sarà la morte, perché da allora in poi, quando sarà finito il mondo, la morte non esisterà più, noi saremo gli immortali, cioè non moriremo più gli immortali. E quindi non è che noi ritorniamo ad essere su una terra materiale, ma saranno i cieli nuovi e terra nuova. C'è un altro modo, tutto nuovo di esistenza, non ci stanno più le cose di prima. Noi chiameremo più il cielo e la luna, perché sarà un mondo dove l'anima vive della gioia di vedere il Signore, di contemplare il suo volto e di stare insieme a Lui per tutta la felicità, per tutto il tempo dell'eternità. Grazie. Grazie. Grazie.